Il Signore mi ha liberato, guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volpi. L'angelo del Signore protegge e libera. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temano e lo salva. Guardate e vedete quante nuove sconore, teatro di lui si rifugia. L'angelo del Signore protegge e libera. Il drago combatteva con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra. E con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora ho vinto la gran voce l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Aiello. E grazie alla testimonianza di Dio. Alleluia 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 angeli, i suoi ministri che fate il suo volere. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle turbe, il Regno dei Cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi l'avesse il pallone, non ha inseminato del buon seme nel tuo campo, da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro, un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero, vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. E prima lasciate che l'uno e l'altro grano, e legatela ai pastelli per bruciarlo. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Coloi che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, è il nemico che la seminata, è il diavolo. La mia editura rappresenta la fine del mondo, e i miei editori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e rigetteranno il sole al regno del padre loro. La parola del Signore. La parola del Signore e dello Spirito Santo. Cari amici, gli angeli, partecipanti a questo convegno, su San Michele. In questi giorni abbiamo sentito molte belle cose su San Michele, ascoltati, ascoltati, delle canzoni del santuario, su Montegare Granno, visto le immagini, i santi, le icone, e quindi ci auguriamo proprio quello che all'inizio di questo convegno ci diceva Don Marcello che partiamo da qui un po' migliori di come siamo venuti, e questo anche abbiamo proprio sentito molto su San Michele. E adesso è importante per noi mettere un po' in pratica quello che abbiamo sentito. sono sentito dell'amore di Dio, e questo amore di Dio va risposto a un amore. Papa Pio XII, prima della sua morte, ha detto, e ci ha esortato, di vivere con gli angeli durante questa vita, una vita di amicizia, così che possiamo vivere con loro nel cielo eternamente. Prepariamo questa vita eterna di felicità. Nella chiesa occorre avere una fede nell'esistenza degli angeli, sappiamo tutti questo. Dalla fede si può giure anche l'obbligo di una devozione agli angeli, ma anche questo è un'esistenza di felicità. Dalla fede, vogliamo una cosa, un esempio di che abbiamo un concetto più profondo di quello che sono gli angeli, occorre essere anche amici degli angeli. Gli angeli sono persone, persone spirituali, persone mandate dall'amore di Dio, a ognuno di noi, gli angeli custodi, per forza il tuo, in un personaggio mandato a me, a te, a un personaggio. Questo personaggio, questo angelo è reale, è completo, è mandato in nostro servizio. Quindi abbiamo un angelo qui che è accanto a noi, che è proprio mandato dall'amore di Dio per servirci, accompagnarci, per avere quello che abbiamo sentito nel Vangelo, questo regno dei Cieli, regno della Padre, la Padre Celeste. Dobbiamo rispondere, rispondere facendoci amici degli angeli, vivendo in un cammino, insieme, verso il Cielo. E così abbiamo già una strategia, abbiamo detto che San Michele è l'archistatega di Dio e penso che questa è proprio la sua strategia per la vita particolare nostra, vita compresa nostra, che andiamo insieme con questi spiriti celesti accanto a noi. Ma come possiamo fare questo? La pietù, come sappiamo, si è vista con l'esercizio. Non è così, come abbiamo sentito, questi cammini sbagliati, strategie sbagliate di voler convivere con gli angeli, questi cammini fuori della Chiesa, che sono cammini che promettono una cosa che non esiste, qualche esercizio del ari...